Trasporto pubblico ad autolinee Toscane. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Mobit. L'appalto se lo aggiudica il gruppo francese. Il commento delle forze politiche. Rinviata la legge sui direttori per l'approvazione della nuova struttura dirigenziale della Giunta, si dovranno attendere le osservazioni della Corte dei Conti. Ben trovati, nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, la nostra trasmissione settimanale dedicata ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Dunque, lo avete sentito dai titoli, si è conclusa la lunga controversia relativa all'appalto del trasporto pubblico in Toscana. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'appello presentato dal consorzio Mobit, attuale gestore, arrivato secondo nella gara. Il servizio viene quindi aggiudicato definitivamente ad autolinee toscane del gruppo francese RATP, vincitrice della gara. Il bando vale 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio. Abbiamo chiesto quindi un commento alle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. Sentiamo due rappresentanti della maggioranza, Bugetti e Cercarelli, e due dell'opposizione, Montemagni e Torzelli. Tutto scritto nelle norme ovviamente perché la sentenza è molto chiara e il contratto prevede la tutela dei lavoratori, prevede una serie di tutele e di investimenti di tutta la Toscana, quindi quello che dovremo fare ora è sicuramente vigilare e controllare che tutto venga applicato come da regolamento perché così dovrebbe essere. Certo è, se mi si chiede, come ho dichiarato ieri, essendo io proveniente da una zona che è Prato, credo che con il cuore, come ho sempre detto, c'era stata una tifoseria che è ovviamente del tutto affettiva, ma che è necessaria di salvaguardare quelle che sono le esperienze, in questo caso di 70 anni, ma anche altre di buona amministrazione e quindi dell'indotto anche di un territorio. Quindi per noi è essenziale che i paletti che sono stati messi in questo contratto, in questa legge, vengano rispettati a partire dai diritti dei lavoratori e poi di tutto l'indotto. Io spero che chi sia giudicato il servizio da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni perché lo sappiamo benissimo di servizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta all'otto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto, che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare, come spesso fa il PD in Toscana, e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Crediamo che invece si debba fare il processo totalmente inverso. Bisognerebbe andare a riporre al centro i comuni, le province, quindi riportare tutti i servizi più vicini ai cittadini. Noi abbiamo contestato la scelta, che è una scelta tutta politica del PD, fatta ormai qualche legislatura fa, che ha portato ricorsi e che ha portato disservizi. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora speriamo che vada a trovare una situazione migliorativa, ma certo è causa solo ed esclusivamente di scelte politiche di Enrico Rossi e della sua giunta. La posizione è che finalmente intanto è finita una situazione che durava da sei anni, che ha portato dei disagi incommensurabili agli utenti del trasporto pubblico locale, perché non possiamo dimenticarci che negli ultimi sei anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuno ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molti hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. Di solito alle partite di calcio l'arbitro quando finisce la partita, anche se una squadra protesta e per un rigore non assegnato, non è che l'arbitro esulta. Qui siamo di fronte al trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese e l'ex governatore della regione toscana dopo sei anni di controversie giudiziarie che esulta sui social come se avesse vinto la nazionale gli europei. Questo mi lascia basito. Il compito della politica non è esultare quando qualcuno vince una gara, semmai è di occuparsi che finalmente la Toscana abbia un trasporto pubblico locale all'altezza di chi poi ne è l'usufruitore finale, cioè il cittadino. C'è una gara europea che è stata mandita oramai anni fa. Finalmente, dopo questo lungo contenzioso, penso che abbiamo l'ultima sentenza, una delle tante che ha decretato la correttezza della gara che è stata bandita e che è stata gestita dalla regione. E io devo veramente ringraziare la professionalità e il rigore dei dipendenti della regione che l'hanno seguita, l'avvocatura che l'ha difesa, perché il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa è una gara che fa giurisprudenza in Europa. L'aspetto più importante ora è che si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati, i legittimi vincitori, e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, con le modalità della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. Penso che questa gara rappresenti una grande opportunità per la Toscana, per i cittadini della Toscana e per chi viene in Toscana in termini di qualificazione del trasporto pubblico locale. Nel capitolato di gara sono previsti investimenti molto ingenti, circa 200 milioni, dovranno viaggiare nelle nostre strade circa 2.000 mezzi nuovi, ci sarà la bigliettazione unica, c'è una garanzia per il comparto in termini di occupati, sono più di 5.000, il capitolato è chiaro, nessuno dovrà perdere il lavoro, ci sarà maggiore spazio per l'integrazione tra l'extraurbano e l'urbano, per una migliore integrazione tra il ferro e la gomma. Insomma, una parte dei contenuti della gara, li abbiamo anticipati, come la comunità tariffaria in Toscana, che ha ridotto da 300 e oltre tariffe ad un unico schema tariffario, con il contratto ponte. Ma ora ci sono tanti aspetti che troveranno attuazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni e sicuramente il trasporto pubblico locale della Toscana ne uscirà maggiormente qualificato, a vantaggio di chi lo potrà e lo vorrà utilizzare. È stata rinviata l'approvazione sulla legge quella relativa ai direttori in attesa delle ulteriori osservazioni della Corte dei Conti. Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in apertura dell'ultima seduta del Consiglio. Fiorentino Latto sarà discusso e approvato in aula il prossimo 6 luglio dopo il necessario passaggio dalla relativa Commissione. Con ogni probabilità le modifiche riguarderanno l'inserimento nell'organico della dirigenza anche del Direttore Generale della Giunta e del Segretario Generale del Consiglio regionale. Sentiamo l'intervista a partire dal Presidente della Commissione competente, Giacomo Bugliani. Oggi in Consiglio regionale la nota legge sul personale di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a mezzo stampa è tornata dopo essere stata proposta all'Aula in Commissione. Quella legge infatti contiene prevalentemente se non esclusivamente aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana ed era preciso intendimento da parte mia come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni. Per questo nei lavori della Commissione da me presieduta sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti. Tuttavia, nelle more della seduta dell'Aula sono emersi ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti rilievi che sono stati trasmessi informalmente ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta e che si dovranno tradurre in ulteriori emendamenti da apportare a quella legge. Siccome ho richiesto come Presidente di Commissione su questa legge che ci fosse un'attenzione particolare sia al contenuto sia alla procedura da rispettare e ho voluto anche rivendicare da parte della prima Commissione un potere istruttorio approfondito su questa come su tutte le leggi che approdano nella mia Commissione concordemente tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale hanno espresso il desiderio che quella legge tornasse in Commissione per la valutazione di questi ulteriori rilievi avanzati dalla Corte dei Conti e io in Aula ho assunto l'impegno di affrontare questi temi nella prossima seduta della prima Commissione e di riportare alla prossima seduta del Consiglio regionale la legge pronta per la discussione e la votazione in Aula. Ma allora noi ci siamo sempre approcciati a questo provvedimento con un principio occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti l'argomento è un argomento prettamente tecnico e che in realtà diciamo si esaurisce in un adeguamento normativo quindi noi su questo siamo molto chiari prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere però arriviamo diciamo a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti a ciò che ci impone diciamo l'indirizzo della Corte dei Conti quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai come dire è da fine anno scorso che si viene diciamo portata all'attenzione dei commissari però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta cioè un adeguamento quindi ecco noi ci siamo approcciati in questo modo rispetto delle regole rispetto dei principi di trasparenza rispetto dei principi di legalità non accettiamo forzature non le abbiamo mai accettate anche quando il Presidente De Gianni si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che il commissario fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi a questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione il testo che verrà licenziato però ecco per noi il principio cardine è questo adeguamento però anche rispetto delle regole per arrivare appunto a un obiettivo che è quello di un mero adeguamento in realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il Presidente Bugliani e il Governatore Gianni ma stavolta torna in commissione non per bagarre politica ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni nelle ultime ore e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato Gianni e Bugliani almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano ecco stavolta è semplicemente un passaggio tecnico va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori non segreti ma pubblici perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore ci sono degli aspetti riguarda questa legge che non non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati a essere maggiormente problematici è necessario fare una legge che si attenga bene a quelli che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia diciamo una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio ringrazio per la collaborazione Egidio Conca e Gianni Maestripieri in regia Matteo Bedini ci vediamo la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti